ciao noi siamo il team omizumi e provate a indovinare oggi andremo a visitare ed ora che si apra il sipario l'ho fatto pocoyo invisibile ciao pocoyo bello il tuo libro di favole anche per oggi è tutto cari amici sandrino è riuscito a risolvere un altro caso misterioso a sgomponia siete tutti pronti allora si comincia preziosi collection ciao sono blaze e lui è il mio pilota e migliore amico aj ciao ciao sono blaze e lui è il mio pilota e migliore amico aj ciao 5 4 3 2 1 mi sono ripresa il telecomando ronald weasley serpe verde tutte le streghe e i maghi diventati cattivi erano serpe verde susan ossos vediamo ci sono tasso rosso mi sa che non sarà una corsa facile auto ribaltabile ladro deforme squinto blaze sta eruttando schiacciala grandioso con la pala il contenitore verde è arrivato a 13 ora qual è il contenitore che pesa di più? schiacciala schiacciala ehi attenti il palle di fango schiacciala ehi attenti il palle di fango schiacciala ehi attenti il palle di fango schiacciala grandioso con la pala il contenitore verde è arrivato a 13 ora qual è il contenitore che pesa di più? mi sa che non sarà una corsa facile schiacciala blaze sta eruttando schiacciala grandioso con la pala il contenitore verde è arrivato a 13 ora qual è il contenitore che pesa di più? il ristorante di Spongebob il naso nuovo il circuito del toro scatenato è il momento di scegliere un nuovo giocattolo quale giocattolo sceglierai questa volta? è il momento di scegliere un nuovo giocattolo io amo le loro canzoni evviva Sandrino una pista preziosa ciao io sono Gabby e sono in spiaggia con Blaze e AJ ci alleniamo per le corse sono costruzioni e morbidi ma mi piacciono i polzini io sono Gabby e sono in spiaggia con Blaze e AJ ci alleniamo per le corse per me sta pensando a un'occhio prezio di collection Ronald Weasley Harry che c'è? dove ti metto? niente niente sto bene vediamo ci sono tasso rosso Ronald Weasley guarda questo già c'è un'opera d'arte ciao noi siamo il team Umizumi e provate a indovinare oggi andremo a visitare mi piace indossare i costumi Barbie è dura che si apra il s... io io il mago dov'è io io? ciao Frank hai sbagliato il luogo Kaylee non vive qui nel deserto incredibile hanno risolto il puzzle è un cavalluccio marino io io il mago dov'è io io? io io il mago dov'è io io? ecco io io ancora dov'è io io? faccio il trofeo fatti la gomma ce l'hanno fatta hanno completato entrambi la super pista di stunt mania ci siamo riusciti Blaze ci siamo riusciti c'è 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 lambert si svegliò di soprassalto aveva udito qualcosa di terribile e vide una minacciosa minacciosissima sagoma un lupo affamato aveva trovato il grigi lambert era pietrificato per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno faccio il trofeo fatti la gomma ce l'hanno fatta hanno completato entrambi la super pista di stunt mania ci siamo riusciti Blaze ce l'abbiamo fatta davvero puoi dirlo forte Darrington e ce l'abbiamo fatta insieme vorrei essere un monster track da corsa più di ogni altra cosa al mondo signore auto e signori veicoli oggi per la prima volta nella storia delle corse sulla linea di partenza abbiamo BLEE! degli attenti palle di bando io se fossi te non ne sarei tanto sicuro signore auto e signori veicoli